Scarpa della Globe, dedicata al videogioco Halo 4, che è un gioco di guerra, fantascientifico, realizzato insieme a Microsoft E' della Microsoft il gioco, quindi gira sulla piattaforma Xbox e PC Ed ecco qui la scarpa, la scarpa è qualcosa di stupendo, stile comunque astronave, stile struttura, ambientazione, sia della tuta di Halo che delle navicelle Guarda che bello questo rilievo qui, guarda è uguale alla tuta, ha la stessa grafica, questo è un modello stupendo, si chiama Liberty Quindi di che marca abbiamo detto? Globe, è una marca australiana specializzata nello skate e abbigliamento da surf, comunque da tavola, sport da tavola, sport board Molto bella Sono arrivati nel negozio questa e questa qui che è stupenda, veramente stupenda Ah questa è una della Globe, sempre della Globe, la Tilt Tecnologica proprio, guarda Questa è bellissima Questa è anche, diciamo in caso di scivolata, di caduta, la sento rigidissima Sì, sono scarpe realizzate Anti-infortunio possiamo dire Sì, sono belle toast Veramente rigide Vedete anche la particolare, diciamo, come si dice, anti-scivolo, no? Sì, sì, se ne ha fatto apposta, ha fatto apposta per rimanere sulla tavola, ha incollati sulla tavola Ecco, tienemela un attimo in mano, così, vediamola dietro anche Molto belle E stanno comunque a prezzi accessibili Globe Il prezzo non lo diciamo perché comunque fa correttezza, non si può mai sapere Poi basta che voi venite sul sito a chiedere O sul sito, su Facebook anche Quindi noi facciamo questi video non solo per un, diciamo, non tanto per una finalità commerciale Ma quanto per una finalità per descrivere l'arte Perché questa è street art, no? Tutto ciò che, queste non sono scarpe, qualsiasi sono scarpe che esprimono un'arte Che esprimono un qualcosa di glamour anche Quindi, al di là del commercio, sono scarpe belle da vedere Abbigliamento bello da vedere Come tutto quello che è street